Ciao a tutti! Questo, se puoi, questo, 35€, sei a posto per sempre. Non sei obbligato a prendere questo perché sono quasi tutti intercambiabili. Vi consiglio questo perché è quello più nuovo, chiaro, scritto bene, organizzato bene, dove le cose si trovano, sono fatte come Dio comanda. Ma potete usare tutti quelli che volete. Se volete usare Labyrinth Lord, assolutamente liberi di farlo, costa meno, costa una decina di euro. Se volete utilizzare Basic Fantasy Roleplay che c'è su Amazon a 5€, perfetto, c'è dentro tutto quello che vi serve. Volete usare le Marche dell'Est? Se lo trovate perché è introvabile, usate tutto quello che volete. Volete usare la scatola rossa? Perfetto. Se proprio dovete sceglierne uno nuovo, in questo momento, Old School Essential e siamo a posto. Se volete giocare D&D classico. Se volete giocare altri generi, ne parliamo un'altra volta. Un'altra opzione viabile, se volete, è Ultima Torcia, che non è un retroclone però, quindi non potete giocare le avventure classiche di D&D, ma è molto bello lo stesso. E ci sono un sacco, un sacco di avventure. Poi di Ultima Torcia magari parleremo anche di quello prima o poi. Comunque sì, abbiamo scelto il gioco. Facciamo finta che abbiamo scelto School Essential. Seconda cosa da scegliere? Le House Rules. Perché una caratteristica importante di questo tipo di giochi sono le House Rules, cioè regole create appositamente per il gruppo di gioco in cui lo utilizzate. Che vanno scelte ovviamente con il gruppo, vanno decise prima e non sono presenti nel manuale. Un'allora classica House Rules che si usa, che in Labyrinth Lord è presente proprio come regola del manuale, è dare il chierico più incantesimi. O meglio, al primo livello, il chierico nell'originale, come nell'originale D&D, non ha incantesimi. Quindi cosa si fa? Si sceglie di abbassare di uno il gradino. Quindi prima cosa che si può fare è questa. Ma si può usare un'altra variante, cioè tutti i personaggi iniziano dal terzo livello. Questa è una regola che usava Gary Gigax direttamente nelle sue avventure negli anni 70 e 80. E dopo vediamo quali sono le House Rules proprio di Gigax. Questo perché la mortalità è davvero alta. Quindi se avete un personaggio un po' sfortunato con un punto ferita, ci schiate. Vediamo altre House Rules classiche che vengono spesso utilizzate. Allora, prima di tutto, invece di lanciare 3 di 6 per generare le statistiche, che vanno create così nell'originale D&D, nel D&D originale, lanciate 4 di 6 e scartate il più basso. Ci siamo, questa classica viene utilizzata molte volte. Poi, altra cosa molto importante, gli scudi possono essere rotti. Cioè, voi subite un attacco, decidete di rompere uno scudo per evitarlo. Altra House Rules classica. È obbligatorio usarle? No. Ma capirete che è talmente semplice crearle e possono essere talmente interessanti che a volte vi conviene. Da alcune House Rules nascono direttamente giochi nuovi, quindi state attenzionati. Ok, una volta che ho scelto le House Rules e ho scelto il gioco, beh, scelgo un'avventura. La quantità di avventura è spropositata, adesso non ne ho qui nessuna, ovviamente. Ma ce ne sono tantissime, potete giocare quelle originali, potete giocare la rocca sulle terre di confine, potete giocare qualcuna che è uscita appositamente per le varie case editrici nel tempo, tutto quello che volete. Altra cosa che dovete fare prima di iniziare a giocare è leggervi i Principi Apocrifa, che sono un documento, che è uscito qualche anno fa, nel 2012 credo, nel quale c'è scritto come si gioca questo tipo di giochi. Ebbene sì. Perché non sono, non vanno giocati come siamo abituati normalmente a giocare a un D&D 5, per dire. Cioè, possiamo farlo, ma non è lo scopo con il quale erano stati creati questi giochi, non è la filosofia del gioco. La filosofia di questo gioco è che l'arbitro, che non si chiama Dungeon Master, in verità si chiama arbitro, soprattutto in Oskull Essential, gestisce il mondo, nel senso di mette le sfide davanti ai giocatori. Fine. Le sfide vengono generate casualmente, i giocatori si beccano con la roba lì, qualsiasi numero esce sul dado e i giocatori se lo beccano. I giocatori, d'altro canto, agiscono più come giocatori che come personaggi. Cioè, cercheranno di utilizzare tutte le conoscenze che hanno per risolvere un problema. Trovare le situazioni più, trovare le soluzioni più improbabili per risolvere un qualsiasi tipo di problema. Questa cosa è molto, molto, molto importante. E ovviamente non siamo abituati a usarla in D&D normale, dove invece magari il roleplay è un po' più improntato, eccetera, eccetera, eccetera. Sostanzialmente, se vi leggete in Principia, siete a posto. E teneteli sempre al tavolo, li stampate, ve li mettete lì vicino, ve li appendete sul tavolo di gioco, se giocate in presenza quando si può, e a distanza ve li mettete da qualche parte. Comunque manteneteli, manteneteli sempre. Ah, tra l'altro, Oskull Essential ha una scheda su role 20 che è bellissima, quindi usatela tranquillamente, è davvero fatta bene. Dopodiché, ho tutte queste cose, cosa devo fare d'altro? Beh, mi creo un personaggio, la creazione del personaggio è semplicissima, perché è semplice la creazione del personaggio, regola base di game design, più il gioco è mortale, più la creazione del personaggio deve essere semplice. Altrimenti, non voglio morire, perché se ci metto 40 minuti a fare un personaggio, la allero. Quindi, lancio 3 di 6 per ogni statistica, se avete house rules, modificate, volete mettere dei numeri fissi, quello che volete. li metto in ordine, quindi il primo risultato va alla forza, il secondo va alla destrezza, eccetera. Dopodiché, scelgo una classe. La particolarità di questa edizione che è di NdBase è che non ci sono le razze, ci sono solo le classi, anzi, alcune razze sono delle classi, tipo l'Halfling, l'Elfo e il Nano. Invece in Advanced, di cui parleremo un'altra volta perché esiste la versione Advanced anche di Old School Essential, le cose cambiano leggermente, ma per ora, vi scegliete la classe, la classe ha dei requisiti, a posto. La classe ha dei poteri, molto molto semplici. Il Chierico ha o meno un incantesimo di primo livello in base alle house rules che avete utilizzato, ma può anche scacciare non morti. Scritto tutto nel manuale, in Old School Essential è fatto benissimo, perfetto. Il guerriero ha magari più punti ferita, meno punti ferita, può fare una roba, può farne un'altra. Ok? Semplicissimo. Fine. Questa è la creazione del personaggio. Dopodiché? Dopodiché si entra, si fa. Si fanno le cose. Come sono organizzati solitamente i dungeon o le cose di esplorazione? Divisi in blocchi, quindi prima stanza, seconda stanza, terza stanza, non a scene, ok? Ma più a blocco geografico. Entrate, vi si presenta il problema, cercate di risolvere il problema. 99% delle volte non si risolve con la forza, perché sennò le prendete. A meno che non siate a livelli molto avanzati. Quindi si va avanti, si prende il tesoro. Il tesoro ha la particolarità di essere un po' diverso dal tesoro a cui siamo abituati. I soldi non servono a granché, se non a darvi punti esperienza. Così come sconfiggere le prove, che possono essere trappole, mostre, eccetera, eccetera, vi dà punti esperienza. Le classi hanno punti esperienza diversi, per salire di livello. Ok? Facciamo un esempio. Prendiamo sempre il manuale di Old School Essential e andiamo a vedere che, ad esempio, il guerriero ha bisogno di 1500 punti esperienza per arrivare al primo livello. Ok? Quindi, prende 1500 monete d'oro, tutte lui, vanno divise ma facciamo finta, arriva al primo livello. L'elfo, che sarebbe una sorta di mago, mettiamola così, 4000 per arrivare al secondo livello. Ok? Perché? Perché è un tipo di bilanciamento diverso da quello a cui siamo abituati. Ok? E vi farà un po' strano, ma a volte avrete livelli diversi di personaggi nel party. Quindi, far partire un elfo al terzo livello, di per sé come House Rules, potrebbe essere un problema, perché è molto più forte di un guerriero al terzo livello. Ok? Quindi, piuttosto, date dei punti esperienza, se volete. Dite, partite tutti con 4000 punti esperienza. Ok? Dopodiché, risolvete tutte queste cose, arrivate alla fine del dungeon, se sopravvivete, perché molte trappole... Una cosa molto importante che vi potrebbe far storcere il naso è che le trappole e le sfide vi possono uccidere anche con un tiro solo. A differenza di Pathfinder 2, dove Vising ha Pathfinder 2. Succede qualsiasi cosa, scatta una trappola, fate talmente tanti tiri che alla fine non succede nulla, perché è impossibile che vi prenda. Qui, fate un tiro, lo fallite e siete morti. Ok? Una volta un tiro vi fa morire. Tiri salvezza, come si tirano, dipende un po' dal gioco che utilizzate. Comunque sia, si lancia un dado a 20 facce, si deve fare meno del valore di classe. Ok? Non ci sono soglie di tiro come in D5, per intenderci. E i tiri salvezza sono un po' diversi, quello contro morte e contro incantesmi. Questo dipende un po' dal tipo di sistema che utilizzate. Vabbè, comunque sì. La cosa importante è che questa è filosofia di gioco. Ok? Il gioco è veloce, si può morire velocemente, ma la sua filosofia è essere snello, veloce. Non tiro, la trappola tira contro di me. Io tiro di nuovo contro la trappola. Alla fine, se faccio così come in Pathfinder 2, non mi succede nulla. All'inizio e la fine del dungeon io non mi è cambiato nulla. Ho lanciato mille dadi, non è cambiato niente. Sopravvivo, prendo i punti esperienza, avanzo di livello, ok? Prendo anche dei soldi, ovviamente, eccetera, eccetera. A differenza di come siamo abituati, è difficile magari che ci siano dei maghi o degli incantatori che vi vendano cose, oggetti aggiuntivi, diventa più complicata questa roba, perché gli oggetti solitamente si trovano. Gli oggetti magici possono essere molto potenti, cioè voi potreste trovare una spada super potente nel primo dungeon dopo aver sconfitto due goblin. Ok? Questo è un tipo di bilanciamento diverso dal bilanciamento a cui siamo abituati con i giochi moderni, dove invece è tutto calcolato, perfetto. Qui invece potreste avere sfide sbilanciate con premi sbilanciati e alla lunga il gioco rimarrà bilanciato. Ok? Complicata da spiegare questa cosa, ma è importante, perché è un modo diverso di bilanciare le cose. Quindi che cosa vi insegna a giocare All School Essential? Vi insegna a ribilanciare i privilegi, gestire oggetti anche molto potenti, molto potenti, all'interno del gioco, e ve lo fa fare in modo molto semplice. Ovviamente le stesse cose le potete poi portare in una campagna di D&D 5. Un'altra cosa che vi insegna è premiare i giocatori, che è una cosa che nessun master fa mai, purtroppo. Cioè, non è vero, ma dovrebbe. Cioè, essere dalla parte, anzi neutri, ma dalla parte dei giocatori, nel senso che se loro hanno una buona idea, la premio. Fine. Non hanno una buona idea, ma sti cazzi, io sono il master, ho ragione io, quindi fan culo. Giusto? Ultima, ultimissima cosa, un'altra cosa che fanno molto bene gli OSR, è insegnare che non c'è solo il combattimento per risolvere un problema. Ok? Anzi, negli OSR non dovete mai combattere. Come il richiamo di Cthulhu, per intenderci. Comunque sì, quindi concludiamo qui il nostro piccolo video introduttivo. Se avete altre domande, fatemele qua sotto, e non qua sopra. Le grandi citazioni. Noi ci vediamo la prossima volta, dove magari, se... parleremo di Sulle Tracce di Cthulhu, un gioco di ruolo da provare assolutamente. E niente, io vi saluto. Ciao.